Guarda, la regia non so se ha esitato sul tuo primo piano, ma hai detto che hai un particolare, un occhio verde e uno marrone. Eterocromia. Eterocromia, adesso non so se dalla regia riusciamo a zoomare su di lei, però questa è una cosa particolarissima, in effetti da vicino vedo, l'occhio guarda la gira, vedi? Da vicino stringiamo ancora di più, uno verde e uno marrone. Invece se è andato su di me vedete io ho due maroni, la differenza, ognuno ha le proprie caratteristiche. Quello, quello, è davvero fatto. Io sono solo etero, ma non ho l'eteroocromia. Coraggio, facciamo quello che possiamo. Qualche consiglio della regia e poi sarà di nuovo Sport Club. Tra poco.